Il titolo della prima tappa di Miss Di Morno di questa edizione, eccole qua tutte quante insieme Siamo pronti per il fotografare, si, e facciamo di partire dal numero uno, eccole qua tutte quante insieme Di nuovo, eccole, guardate il pubblico di stasera, guardate la giuria, alcuni di voi stanno arrivando in questo momento Termina qua, Stefano, mi comunica che anche questa edizione, questa prima serata con Italia Urban è finita Quindi, vorrei qualcuno nel punto vendita, ci sono? Chi c'è per Italia Urban? Elisa? Dove sono le ragazze? Sono dentro? Quindi noi le ringraziamo, dovrebbero essere qua, le fotografie stavano E ci salutano così, prego ragazzi, grazie, grazie per l'interno, è andata bene stasera, grazie Anche a voi per averci mandato in tempo le musiche, è quello che dovevamo dire per questa serata Ecco la nostra frasca che parte nella testa della fila stasera, grazie ragazzi, eccola qua Guardate che cavoli, sono tutti in fruttamento, sono veniti in tre di a voi, sono tutti a cerca di ika grazie di cuore a tutti noi andiamo dietro le fitte ecco qua i nostri ragazzi che rientrono le fotografie sono tutte per voi grazie ancora una volta di Italia Urban e allora dopo questo momento bellissimo ancora un momento bello ecco il nostro maestro Pezzini che prende il microfono lo consegna al prossimo ospite